Al secondo posto nella lista delle più grandi fiere italiane, la campionaria del Mediterraneo torna a Palermo con nuovi spazi espositivo e con all'attivo 70.000 metri quadrati ristrutturati e restituiti alla città. La fiera aprirà i battenti sabato 26 maggio e rimarrà aperta al pubblico per 16 giorni fino a domenica 10 giugno. Protagonisti per il quarto anno consecutivo, il Comune Medifiere, che hanno investito e creduto nel recupero di quella che è da sempre un'istituzione per i palermitani, ma che nel corso del tempo è stata spesso oggetto di furti e vandalizzazioni. Abbiamo raggiunto circa 700 espositori, siamo partiti quattro anni fa con 400 espositori, quindi stiamo raddoppiando i numeri espositori che vengono da tutta Italia e da tutto il mondo, perché ci sono molte delegazioni straniere. In novità abbiamo un padiglione, il padiglione delle Madonie Expo, dove vengono esposte tutte le eccellenze delle Madonie. Abbiamo una rappresentanza spagnola tramite la Camera di Commercio Italo-Spagnola di Madrid. Siamo riusciti ad avere una rappresentanza, quest'anno è una ma scoperta, poi magari il prossimo anno sarà molto più folta, di espositori spagnoli. Ci aspettiamo, come sempre ogni anno, chiaramente un maggiore flusso da parte del popolo di Palermo e anche di tutta la regione. Diciamo che quest'anno ci sono tutti gli ingredienti per fare una grande fiera. L'obiettivo finale è quello di ristrutturare la fiera nel modo più completo possibile, quindi per poterla mettere in condizioni di ospitare eventi, cosa che già fa, ma nelle condizioni migliori possibili, con un decoro urbano e con strutture adeguate. Ci sono dei progetti in merito a questo? C'è la volontà dell'amministrazione di ripetere un bando fatto qualche anno addietro, farlo, renderlo magari un po' più appetibile. Sono convinto che gli anni passati, oggi l'attenzione da parte degli operatori del settore per la fiera è notevolmente aumentata perché Palermo è cambiata, perché Palermo è sicuramente molto più attenzionata dai flussi turistici e quindi noi siamo certi che otterremo i risultati.